Siamo a brevio Siamo a brevi Siamo a corrente Sbasso Giusto per vedere il livello dell'acqua Questa era una panchina sulla riva del fiume Ora è una panchina immersa nel fiume L'isoletta è stata sommersa dall'acqua Questa è una panchina Il segone è visto da brillo Questa è una panchina 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 Questa è un po' 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 un Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.